in francesa siamo una famiglia di acrobat, il nostro amore è acrobat, il nostro amore è acrobat, il nostro amore è acrobat e noi siamo anglobassi, si vede, il fisico, è importante il fisico, grazie. Allora io farò una dimostrazione per il pubblico, guarda così all'ora. Allora è molto molto facile l'acrobazia, avete fatto a me le braccia. Sì, sorridi, sorridi, però sorridi. Chi fa? Come se l'Italia Vincenze le caccia. E' importante l'immaginazione. Si, 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 tutta pure, guarda il cielo, 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 guarda il cielo. Perché è un'ottimaарт. Guarda lì, ancora. Bravissima, bravissima. bravissima e... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.